Oggi ci sono venuti a trovare due aspiri d'eccezione Romina Mondello e Riccardo De Filippis benvenuti benvenuti al Corriere dello Sport per entrambi un esordio so che siete già nervosi tesi perché si parlerà di calcio quando uno entra al Corriere dello Sport soprattutto Romina mi vede l'ora è lì che è pronta non mi vedi guarda come sono pronta si è venuta apposta hai detto sì devo anche presentare il film ma io comunque di calcio voglio parlare quindi parleremo anche di calcio non ti preoccupare e prima di dirci le vostre fede calcistiche sono abbastanza Riccardo si sa insomma che sei un simpatizzante romanista simpatizzante tifoso simpatizzante tifoso romanista un simpatico tifoso romanista parliamo di Rabbia Furiosa e Canaro che è il film per il quale voi siete qui oggi siete i protagonisti di questo film che è nelle sale italiane allora c'è in questo momento grande attenzione cinematografica per questa nota vicenda accaduta negli anni 80 alla Maiana è uscito il film di Garrone che tutti sappiamo è uscito anche il vostro è diverso è abbastanza diverso entrambi seguono fino a un certo punto la vicenda ci sono molti innesti unirici in questo film diciamo che è un film un po' più violento rispetto a quello di Garrone raccontatemi prima voi la storia insomma di questo film ma io cedo il passo come al solito ben volentieri un gentiluomo che poi Riccardo è il vero protagonista del film perché insomma lui è Canaro quindi io non faccio altro che la moglie quindi la consorte dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna che in questo caso la grande donna è Anna il personaggio che io interpreto si chiama Anna e io parlo del mio personaggio assolutamente parli del tuo e insieme se no parlo io del tuo e tu del mio no io preferisco il mio figa sta cosa che vi scambiate no 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 vai vai cioè io sono Anna decidete voi faccio Anna sono la moglie del Canaro ingresso un po' di capelli no allora Anna è una donna di borgata vive in condizioni insomma precarie diciamo quindi si sveglia la mattina fa le pulizie e bada a questa figlia che è l'amore della sua vita c'è questa relazione con quest'uomo che è suo marito che è un uomo diciamo mancante perché tra la prigione e i vizietti e i cani insomma poi lei diciamo è quasi apparentemente l'ultima ruota del carro lo dico apparentemente perché poi in realtà sono legati entrambi da un amore vero o un vero amore come diciamo poi anche nel film che porterà poi tutta la vicenda in una direzione appunto che però non possiamo svegliare no non svegliamo quindi insomma è stato bello interpretare questo personaggio che mi ha chiesto di interpretare Sergio Stivaletti che è il nostro regista con il quale tu hai già lavorato in passato sì quindi quando mi ha proposto questo nuovo film io sono stata ben contenta perché sono legata a Sergio comunque da a parte la stima che è la prima cosa in realtà da un grande affetto ci lega da anni ci conosciamo veramente da tanto tempo quindi insomma sono stata contenta anche di vedere il risultato perché poi ecco Riccardo è bravissimo e devo dire Riccardo tutti gli attori lo dico solo perché sei qui non è vero anche quando non c'ero poi quando vi salutate no invece Riccardo tu insomma interpreti il protagonista del film faccio il protagonista del film sì il Canaro il protagonista sì sono anche in locandina photoshoppato dicono sì tutto insanguinato sì con questo look un po' sì e che dire è ovviamente un fatto di cronaca che tutti conoscono però il film è liberamente ispirato sì insomma non è facile rintracciare degli elementi della cronaca è un film molto bello cioè devo dire non dovrei dirlo io no però è un film riuscito perché ha una sua anima è un film molto bello e per me personalmente l'attore è stata una grandissima occasione per questo ringrazio Sergio e tutti gli altri perché insomma un ruolo così non capita proprio tutti i giorni il coraggio di Sergio secondo me del regista è stato anche quello di farvi recitare in romano il bello di questo film è anche questo insomma questo aspetto no? voi recitate proprio il romanesco? sì ma guarda c'è un modo di dire nel senso è un film sporco in un certo senso in tutti gli aspetti sia tecnici formali quindi insomma noi recitiamo in romano la fotografia di un certo tipo i dialoghi di un certo tipo le ambientazioni tutta la parte della violenza che diciamo in questo film è raccontata in ogni dettaglio possiamo dire c'è il finale che è abbastanza tosto il finale è tosto però è un momento che è più fedele poi a quello che è però è anche un film molto emozionante dal punto di vista drammatico tra l'altro è bello che insomma si è tornati a fare io lo considero un film horror poi non lo so se è vero o no per come la vedo io è bello che si è tornato a fare un film di questo genere in Italia perché noi eravamo bravi a farli poi non so perché per un sacco di tempo non si sono più fatti invece insomma grazie anche a Stivetti che non è insomma l'ultimo arrivato diciamo nel genere come è stato tornare a lavorare con lui? tu insomma hai recitato con lui nella maschera di cera giusto? sei la protagonista del film sì lì beh è un film completamente diverso sì completamente diverso allora quello era il primo film di Sergio e che è succeduto si dice succeduto? è venuto dopo è venuto dopo così diciamo a Fulci e quindi ha preso in mano questa situazione il film era prodotto da Dario Argento c'era Dario sul set e diciamo era un Sergio giovane alle prime armi sono passati degli anni quindi Sergio ha fatto solo tre film questo è il suo terzo progetto il suo terzo film e è molto maturato io l'ho visto più convinto più contento consapevole poi se vuoi anche no? perché lui comunque viene da un'altra faceva altro diciamo non nasce come regista quindi e invece questa volta si è divertito si è divertito con noi sul set è stato più io l'ho visto e l'ho sentito anche rispetto ad allora a maschera di cera molto più rilassato molto più anche appunto consapevole lui dice è il mio film della maturità allora lo diciamo anche noi è il film della maturità di Sergio però si vede in un certo senso si vede si vede una scelta stilistica cioè si vede che lui ha trovato il suo cioè mastica proprio roba sua gli piace con te si è divertito cioè con voi nella parte finale poi si è divertito proprio ha dato il meglio nella tortura cioè ci sono delle cose proprio proprio il suo habitat si che gli amanti del genere non possono che apprezzare però devo dire perché poi per quelli che non l'hanno visto è sicuramente un film di genere però a parte gli ultimi famigerati dieci minuti venti quindici tre anni e mezzo no perché io sto così dai di quelli tosti una decina però è veramente un film è un film drammatico su una storia di persone in difficoltà di qualsiasi tipo no? me per un certo verso perché non è un film horror non è un film dove c'è quello e basta anzi per il 75% del tempo c'è altro sono emozioni una vita familiare importante insomma c'è una bambina straordinaria c'è una bambina straordinaria sì mia figlia parliamo anche nella vita sì sì parliamo anche di Virginia Olivari che è un altro dei protagonisti del film è enorme cioè è veramente massodo no guarda non tanto più grande mi mette mi ha fatto impressione ma nella realtà è così cattivo oppure molto tranquilla è un buonaccione come si dice a Roma no un buonaccione posso raccontarti una cosa io e Virginia andavamo a scuola insieme veramente ma dai non te l'avevo mai detto no nei tempi della scuola abbiamo fatto abbiamo fatto il liceo lui feceva lo scientifico io il classico ma in una scuola di Salesiani a Villa Sora a Frascati quindi ci conosciamo da sempre è stato sempre ci ha avuto sempre questo aspetto così però è un buono vero come spesso succede infatti lui è cattivissimo no non è vero cioè tu lo vedi così ma in realtà lui è perfido dai viene dal romanzo criminale appunto è perfido ecco non è vero non è vero cioè hai parlato un quarto d'ora di questa cosa poi alla fine di una cattiveria tu vieni qua guarda neanche si fa baciare c'ha paura si c'ha paura voi eravate molto giovani quando avvenne in realtà il fatto no quello insomma fatto vero lui si anche se non si vede ho detto che sono cattivo allora che ricordi quanto avete vi siete cioè nella preparazione dei personaggi quanto avete vi siete informati su quel fatto vero di cronaca che era accaduto negli anni 80 io vai tu perché il personaggio della moglie è sempre guarda io faccio di solito così in questo caso in particolar modo perché se c'è un fatto di cronaca io mi documento leggo tutto quello che c'è da leggere poi per cercare di raccogliere delle suggestioni più che andare a ripetere delle cose e poi me lo dimentico e seguo la sceneggiatura che poi è quello il mio mestiere cioè raccontare quello che il regista e altri sceneggioteri hanno scritto però è sempre molto utile avere un quadro d'insieme però poi va fantasia e istinto